Ha ucciso sua moglie massacrandola a colpi d'ascia, poi si è tolto la vita lanciandosi dal balcone. Un volo di parecchi metri, prima di morire sul colpo schiantandosi al suolo. Omicidio-suicidio nel cuore della notte nel casertano a Casal di Principe in Via della Valle, l'uomo Gennaro Merola avrebbe assassinato la moglie, Gerardina Di Pietro, 77 anni, fracassandole la testa, poi si sarebbe lanciato dal balcone di casa. La tragedia è avvenuta nel palazzo dove i due coniugi, entrambi pensionati, vivevano una vita ordinaria. Avevano due figli adulti che da anni non vivevano più a casa e venivano descritti dai vicini come una coppia tranquilla. Nulla lasciava insomma presagire quanto accaduto la scorsa notte. I carabinieri hanno ritrovato nell'abitazione un'ascia con cui Merola ha colpito ripetutamente la moglie al volto. Un commerciante che aveva il negozio al pian terreno del palazzo dove è avvenuta la tragedia, ha spiegato di conoscere i due coniugi ma di non aver mai udita urla provenire dalla casa della coppia né di aver mai sentito litigi. Sul caso lavorano i carabinieri della stazione di Santa Maria Capoavetere diretti dal maresciallo Mario Iodice. La tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri dal condominio in cui lo scorso 17 gennaio Teresa Cotugno di 50 anni e Franco Sorbo di 48 anni vennero trovati senza vita dai carabinieri in via Galatina. I cadaveri erano in camera da letto. L'uomo, una guardia giurata, aveva prima ucciso la moglie per poi farla finita in camera da letto.